Ed ancora non si placa la bufera intorno a SEAB sulla questione del salasso delle bollette insolute. A prendere la parola è Stefano Rebello, consigliere di minoranza di lista civica controcorrente a Cossato, che chiede espressamente al sindaco urgentemente una verifica sulla legittimità della procedura adottata dalla società in house SEAB SPA. Letteralmente scrive, con espresso riferimento a quanto dichiarato dal presidente Rossetto nell'intervista a Rete Biela TV andata in onda il 12 novembre e agli articoli pubblicati dal giornale La Stampa, che fanno emergere chiaramente come l'affidamento dei servizi di recupero dei crediti, che avrebbe iniziato la lavorazione di 150 posizioni debitorie di utenze e cossatesi, risulterebbe essere stato affidato senza alcuna evidenza pubblica della procedura. Da quanto dichiarato si evince che le operazioni di recupero credito relative allo stock di circa 8,45 milioni sarebbero state suddivise in lotte, dai quali il primo individuato con i crediti vantati verso le utenze di costato, che ammontano ad oltre 1,55 milioni di euro. Tale modalità di frazionamento in lotti parrebbe essere stata illegittimamente adottata al fine di evitare la gara europea trattandosi di importi a favore dell'appaltatore comunque sopra soglia. Si segnala inoltre che la società management SPA chiede agli utenti di costato che il pagamento delle somme dovute, degli interessi moratori, delle spese legali di recupero dovuti a SEAB SPA venga invece effettuato su conto corrente intestato alla stessa società di recupero. È necessario che tale modalità di riscossione venga verificata sotto i profili di correttezza amministrativa e legale. Così scrive Rebello. Sicuramente questo argomento sarà dibattuto nell'ambito dell'Assemblea Sindaci SEAB in detta il prossimo 21 novembre, fortemente voluta dal sindaco di Gaglianico Paolo Maggia. Ed ancora alla nostra redazione arriva un'altra missiva firmata a Ruggero Spera che ancora chiede chiarimenti in merito alle dichiarazioni a dir poco imbarazzanti. Così lui scrive, rilasciate dal presidente SEAB. Secondo il presidente che avrebbe già intrapreso in passato azioni atte al recupero crediti che tuttavia non avrebbero prodotto alcun risultato, ma quali azioni? Ed ancora scrive Ruggero Spera, signor Rossetto, assolutamente nessuna azione. Il vostro regolamento parla chiaro, dovete inviare il sollecito di pagamento e non l'avete fatto né con me né con tanti altri utenti che sono nella mia stessa situazione. Avete violato chiaramente il vostro stesso regolamento. Naturalmente il tono di questa lettera è a dir poco nervoso. Grazie.